Primo weekend di nuoto di fondo nel mare bandiera blu dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate che ha ospitato la quinta edizione della Gran Fondo di Nuoto in Acquilibere di 15 km e la seconda tappa del Campionato Nazionale di Nuoto in Acquilibere del Centro Sportivo Italiano. Contestualmente è andata in scena anche la gara internazionale Xen Acquilibere 2024 promossa dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. Spettacolo assoluto nella prova regina di 15 km svoltasi domenica mattina che ha visto atleti italiani, argentini, spagnoli e svizzeri nuotare nel golfo di Castellabate partendo da Baia Arena di Monte Corice ed attraversando tutta la riserva marina dinanzi anche allo spettacolare isolotto di Licosa. A trionfare tra gli uomini per il secondo anno consecutivo è stato Domenico Scaldaferri della Peppe Lamberti Nuoto Club che ha chiuso la gara in 3 ore 24 primi e 12 secondi. Tra le donne un'altra conferma Daniela Calvino della Nantes Vomero che ha terminato la gara in 3 ore 27 primi e 8 secondi. La piscina naturale di Castellabate è stata teatro domenica mattina anche del Miglio Blu Arancio e della seconda tappa del Campionato Nazionale di Nuoto in Acquilibere grazie all'organizzazione della Polisportiva Aquaria unitamente al prezioso supporto logistico e tecnico del Circolo Nautico Punta Tresino e di Camelot Sport per le rilevazioni cronometriche. E in partnership con il Centro Zona CSI Cilento ed il CSI Salerno sotto legida del Comitato regionale CSI Campania e per la prima volta della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. Nella giornata di sabato invece sono stati ragazzi ad animare le gare del Centro Sportivo Educativo Nazionale. Le gare quest'anno erano tante quindi le abbiamo dovute distribuire in due weekend. Abbiamo cominciato ieri pomeriggio con le gare Xen su varie distanze dai 400 a 800, 1.500 il miglio praticamente e oggi sono proseguite con la 15 km confermata da 5 anni del Gran Fondo Italia e con le gare CSI sempre sia sulle distanze di 400, 800, 1.500 e 3.000 metri che quest'anno sono rientrate nel campionato italiano di nuoto in acqua e libere del Centro Sportivo Italiano. Siamo qui a Santa Maria per la seconda tappa, la prima si è svolta in Liguria, oggi è la seconda e la terza si sarà il 22 settembre a Pisa del campionato nazionale di nuoto in acqua e libere. Per me è un appuntamento fisso di questi periodi, in realtà sto preparando una 25 quindi mi serviva a fare una 15 così bella e così tecnica come questa di Castellabate e poi sono molto amico di Giovanni, non potevo mancare nemmeno quest'anno. Una bella vittoria grazie anche comunque ai nostri traghettatori, il mio accompagnatore e nonché mio marito che mi accompagna in tutte queste mie folle imprese, poi si è usato il mare sempre verso gli ultimi 5 km, l'ho sentito. Il nuoto di fondo tornerà ad essere protagonista nel weekend del 6 e 7 luglio con le gare organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino in collaborazione con l'Sd Peppe Lamberti Nuoto Club. Sabato 6 luglio con partenza alle 10, la mezzofondo di 3.000 metri con partenza ed arrivo dalla spiaggia tra lo stabilimento Balneare e la Pagliarella e di Residence la Perla Bianca. Nel pomeriggio poi alle 18, la prima giornata di nuoto si chiuderà con il mezzofondo Sprint 1.852 metri. Il programma terminerà domenica 7 luglio con partenza alle 10 con la traversata a nuoto del Golfo di Castellabate di 5.000 metri con partenza dallo specchio marino antistante il porto di San Marco di Castellabate ed arrivo alla frazione Lago. Infine, domenica 14 luglio, spazio alla Palla Nuoto Giovanile con un torneo che si terrà in località Lago con il coinvolgimento della Dream Team Salerno ed altre società sportive.